Giuseppe Pazzella che sono questi qua? Asparagi servati. Asparagi? Infatti sì. Dove li hai trovati? In giro per i boschi? Quindi questi qua che periodi fanno? Da aprile fino a maggio. E come si possono cucinare? In tante modi, bellissime, una bella frittata con gli asparagi è il massimo. Ok e quindi buon appetito, ciao 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 a tutti, buon appetito!